Oggi si va in missione segreta Grazie per la visione Ah, dove siamo? Al lago Moro Siamo al lago Moro C'è Simone Moro Eccoci qua Grazie mille che mi ha portato Mascherina Oggi siamo al lago Moro ma non l'ho ancora comprato È arrivato prima lui di me Siamo in zona Fopolo, in alta Val Brembana E oggi siamo qui per lavoro Stiamo facendo un servizio fotografico e video Jonas fa il supervisor Manca il polina e manca il pol E anche Panzerator Panzerator, ok Perché non ci stava la moto Discesina Guarda Sulla pietraia ragazzi E allora ? Oh, Jonas, guida bene andiamo in autobus o le oggi il panzer non è venuto non si sa perché avrebbe avuto paura di andarli nell'elicottero come l'ultima volta allora abbiamo fatto un po' di discesa, un po' di foto Jonas mi ha droppato con l'elicottero su in cima, adesso lo rifacciamo perché il cameraman stava facendo le foto quanto pico da uno a dieci? no, di 100 a mille Diego ha deciso di andare giù in bici e Simone ci porta giù in elicottero più che altro va giù perché ho dimenticato la mia giacca ma, un tanto noi andiamo Ma guarda che discesa, non è lunga Sì, c'è un sacco di sassi, le braccia di morire, è un figo Dopo aver girato in bici l'elicottero, c'è una scaffata Cosa vuoi mangiare? Carne Di steccozza Tonno, tonno, tonno cazzo Allora, una volta se andavi in giro con la mascherina ti arrestavano Cioè se io adesso entravo in banca così Ah è vero Venti giorni fa mi mettevano al muro e adesso Solo i bambini non contagiano E questo è lo scambio Allora, quello per l'elicottero? No, 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 non ci sto Lui non vuole darmi il quote e io gli do l'elicottero Ho perso il figlio È ora di andarsi in bucone Dove siamo? A Didiland Cazzo succede qui a Didiland? Eh niente, da oggi facciamo un corso di yoga Con un casco eh Con un casco, certo, certo Perché siamo all'aria aperta, certo Ci sono gli uccelli che passano Oh che roba, stamattina di H Il pomeriggio si salta col dirt Ci facciamo anche a niente oggi Vabbè, Jonas è già venuto qua a saltare Quanti anni hai? Dieci Sai cosa succede quando veni qua? No Quando veni qua devi avere sempre un obiettivo Quindi oggi cos'era l'obiettivo? Che era il flip Che trick facciamo oggi? Tra i double subito Back flip? Sì, allora te l'ho spiegato l'altro giorno Vediamo cosa ti ricordi, Ant Facciamo così Spiegamelo te a me Vai su, stai indietro E poi spingi con i piedi Spingi con i piedi E tiri E devi tirare anche con le braccia Convinto eh Se non sei convinto non funziona Nella vita è così Che trick faccio io? Triple win Subito, terzo giro Sì Quando vuoi Sì Ma come me ne Me ne hai lasciata sul più bello Allora me lo tiri Ancora un filo di più Stai attaccato Un giro barra due Siamo a casa eh Ok Gasato Ah troppo presto Guarda bene eh Guarda qua spingi tu Hai capito? Due Vai Ah Ah fammi così Ti metti qui E provi a far così E la spingi via Spingi di più Ecco Quando ti butti indietro Spingi già Ok Fammi una dichiarazione Quanti tentativi? Tre Tre tentativi Ogni tentativo in più Sono dieci frustate Vai Sì Sì Vai Sì 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 Poi se oggi mi fai backflip La prossima volta ti tocca far fronti Alessiralo eh Guardate un flerp Io faccio doppio blackflip Te l'ho chiudo tutti di flip Dai Impegnati Non ti tocca eh Allora Jonas per backflip a comando Let's do it No allora il problema di Jonas È che tende a mandare il bacino avanti Invece bisogna tirare indietro Capito? Non devi dare le pisellate al manubrio Ti concentri Non ti aspetta Tiri indietro Guardi indietro E niente più del lato Sì Sì No no Te l'hai presa sulle gambe Sì Qua Qua Mi scherello Tieni 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 Fai un altro Sì 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 Com'era? È cagata Sì Allora Buono questo Pensa a quello che devi fare Io Sì Sì Completo Grande Adesso io ho fatto il bacino Allora tu adesso mi fai più dipendere Lo sapevo ti piace proprio tanto Eh sì Agli ordini Allora per chi lo fai? Per i palzeri Vai Allora Jonas come è andata la giornata oggi? Mitica La grande Sì Sì In fatto anche il tuo primo backflip sul gonfiabile Adesso tra un po' mi tocca costruire il salto per farlo da fare sul duro Eh sì Grazie Simone che ci ha portato a fare il giro Grazie a voi Jonas come si dice Ci vediamo nel prossimo video Ciao